Uomini e donne, Andrea Melchiorre si è fidanzato, ecco chi è lei Uomini e donne, Andrea Melchiorre presenta la sua nuova fidanzata, parole speciali. Tutti avrebbero voluto vederlo seduto sul trono di uomini e donne il prima possibile, ma purtroppo non sarà così. Dopo aver corteggiato Valentina Dallari, Andrea Melchiorre non sembra essere intenzionato a tornare in trasmissione. Il giovane romano è rimasto single per molto e molto tempo, ma ora le cose sono assolutamente cambiate. Dopo aver fatto parlare di sé per il flirt estivo con Giulia Latini, il ragazzo ha trovato lamore vero. A rivelare il suo attuale stato sentimentale è proprio il diretto interessato. Riguardo alla sua vita privata, Andrea è sempre stato molto riservato ma, stavolta, ha voluto parlare della sua nuova fidanzata attraverso uno speciale post pubblicato su Instagram e che ha ricevuto in brevissimo tempo innumerevoli like e commenti. . Andrea Melchiorre ha pubblicato su social uno scatto che ritrae la sua fidanzata. Lei è senza dubbio bellissima e nella vita fa la modella. L'ex corteggiatore di uomini e donne ha raccontato attraverso delle dolcissime parole come ha incontrato la sua dolce metà. . Emozioni che pensavo perse, sensazioni così belle e intense che sono difficili da raccontare, ma lo faccio comunque. . Labbra carnose, occhi grandi di un verde che non avevo mai visto prima, altissima e diversa nei modi di fare, forse perché di un'altra cultura. . Particolare, bella e riduttivo, statuaria, fascino nordico, dolce nei modi di fare come una bambina, ma quando lavorava si tramutava, ogni gesto una posa perfetta e movimenti aggraziati. . Una strana sensazione e ci capivamo con pochi sguardi. . Andrea Melchiorre innamorato dopo uomini e donne, lei è bellissima. . La nuova fiamma di Andrea non è italiana, ma slovena. . . Nelle foto pubblicate dallo stesso Melchiorre, la ragazza sembra essere meravigliosa. . Insieme formano, senza dubbio, una bellissima coppia. . Non sono madre in lingua inglese, d'altronde come lei, ma comunicavamo benissimo e ma la cosa che più mi ha colpito è stata una sua risposta ad una mia domanda perché fai la modella, sei appassionata di moda? No. Questo è solo un lavoro per me. . . Disinteressata al punto giusto rispetto alla mia passione, forse è lì che mi ha rapito. .